Intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente tra una moto e un bus lungo la strada provinciale 47 a Campo San Martino, deceduto il Centauro. Lo scontro semifrontale è avvenuto tra il lato sinistro del pullman e la moto, con il motociclista sbalzato per terra, mentre la due ruote ha proseguito la sua corsa in maniera autonoma per fermarsi dopo qualche centinaio di metri. I Vigili del Fuoco accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza il teatro incidentale. I medici del Suem hanno potuto solo constatare la morte del motociclista, illeso invece l'autista del bus e altre due persone che si trovavano a bordo. La strada è stata chiusa al traffico in attesa dei rilievi delle forze dell'ordine.